Un trentenne di Monte Corvino Pugliano è stato arrestato dopo aver tentato di strangolare la giovane moglie. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, maltrattava la moglie da mesi attraverso vessazioni, insulti e lesioni. Al culmine dell'ennesima lite, il trentenne ha colpito la consorte con una serie di pugni, provando poi a strangolarla con un maglione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato e condotto presso il carcere di Forni il trentenne. La moglie invece è stata accompagnata in ospedale. Per lei sette giorni di prognosi.